Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ralettamenti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Calenzano e Barberino. Per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla A11 code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Ralentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze via Pistoiese chiusa tra via Campania e via Umbria fino alle 18 e 30. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!